salve a tutti ragazzi bentornati nel canale io sono ssu99 insieme a me c'è james lux ciao ragazzi e oggi parleremo di come creare un team o comunemente chiamato clan iniziamo subito a dare un piccolo schema riassuntivo generale sui temi che andremo a trattare tra pochissimo bene come primo punto bisognerebbe differenziare diciamo il significato fra team e gruppo cosa significa team è una cosa e gruppo è un'altra cosa ancora comunque andiamo avanti con lo schema riassuntivo e poi alla fine andremo a specificare meglio punto 2 da dove iniziare mentre si parte sempre da da un primo passo diciamo da qualcosa di piccolo che può diventare grandi secondo punto creazione del team vero e proprio terzo punto creazione di una squadra titolare competitiva quarto punto stabilire nome clan tag clan ed emblema molto importanti quinto punto tra parentesi mettiamo volontario perché è una creazione di un canale youtube di una pagina facebook e di altri social un po per farsi conoscere permettere le clip dei nostri membri per fare video tutorial che sono molto utili io ve lo consiglio sono molto utili però non è essenziale che è una cosa aggiuntiva che però ve lo consiglio andiamo avanti con lo schema riassuntivo punto 6 unirsi a gruppi competitivi settimo pubblicizzare il team penultimo punto cioè l'ottavo mantenimento del del clan ultimo punto cioè il nono conquistare la stima degli altri clan ok partiamo insomma con il primo punto differenza fra team competitivo e gruppo for fun allora cerco di fare intanto faccio una piccola premessa cerco di fare questo video che è un tema abbastanza corposo ok fate alcuni punti che andrò ovviamente a spiegare ma spiegare in una maniera talmente breve che dovrò fare un altro video su come specificare meglio su come aiutarvi un po diciamo in questa maniera perché veramente sono degli argomenti tosti grossi e molto corposi che non è facile non è per niente facile spiegarli in in questo video comunque insomma continuiamo con la spiegazione questa differenza alla molti pensano che creare un clan c'è un team su batte fil 1 batte fil 4 batte fil 5 c'è uno va sulla paginetta sulla finestrella bianca a sinistra cliccando lt del controller gli appare plotone crea il plotone mette un tag quello a caso e dice sì ho creato un plotone no no non funziona così non funziona per niente così questo è diciamo il giocatore medio che crea un team a cazzo cioè non i team non si creano così al massimo uno può creare un gruppo un gruppo for fun in effetti si parte sempre da un gruppo for fun che significa in un gruppo for fun non esistono membri non esistono c'era che non esiste nulla esistono solamente persone player che giocano insieme a te con altre tag diverse con emblemi diversi costri di gioco diversi non ce ne frega perché un gruppo di gioco persone che giocano insieme perché si trovano bene questo è un gruppo di gioco in effetti quando creiamo un un plotone sui battle log automaticamente diciamo il non dico il sistema di battle film ma il sistema della community associa quella tag clan no quel nome protone a un gruppo competitivo in effetti fateci caso siete in partita un esempio classico siete in partita a giocare con i vostri amici insomma e vi arriva messaggino magari da un player accanto sapete nemmeno chi è t5 cv e uno dice risponde noi non siamo competitivi errore sbagliato è proprio questo il problema se un gruppo non vuole fare competitivo non deve creare il clan è inutile perché è inutile proprio nel senso della parola è inutile c'è un team è associato al competitivo come competitivo è associato al team il gruppo di gioco non è associato al competitivo è associato al for fun gruppo di gioco sono delle persone unite insieme di altri team di altre di altri gusto persone diverse che però si trovano bene a giocare insieme questo gruppo di gioco dopo aver specificato questo primo punto un punto diciamo per chiarimento passiamo diciamo alla parte introduttiva di come formare un team quindi da dove bisogna iniziare diciamo ovviamente la scelta del gioco quello è veramente sarà una stupidaggine ma era meglio se non la mettevi che talmente ovvia che è inutile anche inserirla però scelta del gioco importante bisogna capire se iniziare da minecraft se iniziare da code se iniziare da battlefield se iniziare da allo bisogna capire su quale gioco bisogna iniziare ovviamente comporta varie cose perché ogni gioco al suo stile ogni gioco alla sua community quindi è tutto diverso secondo fattone conoscenza di player e qua james può intervenire con molto piacere ragazzi un team è un gruppo di persone e proprio per questo motivo bisogna essere attenti che le persone siano facciano parte di questo team però bisogna farlo con un certo criterio bisogna ovviamente conoscere e integrare le persone giuste potrebbe sembrare un discorso un po strano perché uno dice vabbè mi collego prendo tizio caio sempronio faccio il team però se voi puntate ad arrivare a un certo livello se voi puntate a creare un team e quindi passare lo step successivo che che prevede la creazione del team stesso passando da un team for fun diciamo fatto di persone che si conoscono in modo un po random dovete conoscere integrare persone secondo certi criteri ovviamente non mi metterà a parlare dei fattori tecnici la skill le statistiche l'esperienza quelle magari si faranno in un altro video magari si spiegherà un po quali parametri secondo noi bisognerebbe vedere per definire un player buono però non ci occupiamo di questo in questo video ci occupiamo più sul lato un po più social ecco ci sono pochi consigli ma buoni ragazzi cercate di tenervi stretti le persone cristalline limpide cioè che cosa voglio dire con questo andate sempre da coloro che non hanno mai peli sulla lingua cioè che si esprimono subito senza troppi fronzoli perché quelle sono le persone più sincere ma allo stesso tempo semplici del mondo anche se un erozzo anche se un un po maleducato oppure anche se tanto gentile comunque fatto sta che una persona limpida e quindi la riconosce subito quindi il primo passo da fare ragazzi è conoscere chi è di fronte cioè fare in modo che chiunque sia dall'altra parte possa essere comunque capito subito possa essere subito cioè non dico di fare un'analisi psicologica ragazzi però bisogna capire chi è dall'altra parte quindi se vedete uno che dice un po di parolacce bestemmia oppure un altro che troppo gentile oppure un po zitto un po timido insomma cercate di capire se dall'altra parte ci sia una persona limpida sincera cristallina che si apre subito e si mostra per quello che è senza fare doppie facce doppie facce doppi giochi oppure comportamenti strani e in questo modo sarete quantomeno sicuri di poter scegliere le persone giuste poiché queste persone si riveleranno tutt'altre col passare del tempo potrebbe essere un dispiacere però fatto sta che dovete tenere conto di una cosa la prima cosa fondamentale circondarsi di persone di cui si sappia quantomeno l'identità ecco di cui si sappia come sono come parlano come te come la pensano che non so del gaming della comuni insomma persone cristalline così proprio nell'immediatezza potete sapere se ci andrete d'accordo o meno non andate da quelli che si comportano in modo contraddittorio che dicono una cosa poi si comportano in un altro modo oppure cioè non sto dicendo che non dovete ascoltare i montati perché i montati possono essere persone cristalline nel loro modo di essere quindi ci sta ci sono altri punti negativi però ma quantomeno anche se uno fa tanto il montato si se la tira ma è bravo a giocare almeno sei sicuro che uno serio cioè onesto sincero che si mostra per quello che è non andate da quelli che dicono una cosa poi il giorno dopo si comportano in un altro modo oppure hanno 30 mila che ne so sfaccettature una in contraddizione con l'altra cercate di trovare persone con un certo equilibrio perché se no vi ritroverete con gente di cui non sai niente di cui non sai se fidarti o meno e per creare un team non essere sicuro di chi hai di fronte è grave cioè è demoralizzante non sai nemmeno quanto durerà il team stesso quindi prima cosa ragazzi essere sicuro di chi hai di fronte che è difficile per carità però cercate di trovare gente spontanea gente sincera gente che non sta lì a crearsi immagini su live eccetera poi secondo punto ragazzi cercare di creare un'armonia tra queste persone un'armonia che riesca a collegare tutti quanti e questo come come si avvera diciamo ritornando al punto uno se voi trovate persone sincere cristalline sembra un discorso scontato ragazzi però se voi trovate dieci persone che sono una c'è una diversa dall'altra di cui non si sa come pensano del mondo come pensano del gioco come pensano del gaming come come sono interiormente si metteranno una contro l'altra se invece voi trovate dieci persone che tutto sommato si magari la pensano un po diversamente rispetto a qualche cosa ma si apprezzano tutte quante senza giudicarsi perché sono tutte sincere tutte spontanee ci sarà una grossa probabilità che andranno tutti d'accordo quindi se c'è questo per farvi capire non andate a prendere il segaiolo il malato mentale pure quello complessato quello che un giorno dice una cosa il giorno poi si comporta in un altro modo oppure trovi quello che spalla di tutti quanti quello che fa dei sotterfugi che so se voi trovate persone tutte sincere tutte diciamo limpide nel loro modo di essere avrete una grossa probabilità che andranno tutti d'accordo se invece ci sono delle grosse diseguaglianze diciamo caratteriali uno peggio dell'altro per così dire il team non si reggerà in piedi ecco sembra un discorso un po strano ragazzi però se voi ci fate caso è così adesso lascio la parola al nostro sio 99 ok continuiamo il terzo fattore sempre del secondo punto è l'inizializzazione di un gruppo di gioco quindi dopo aver trovato delle persone affidabili ovviamente sempre a livello for fun persone affidabili tutto sommato vi sembrano brave persone quindi ci potete costruire un qualcosa di serio è l'ora di creare un gruppo di gioco quindi come si è detto prima un gruppo for fun dove si gioca for fun si gioca normale in conquista in dominio senza bisogno di rate senza bisogno di skill senza bisogno di niente senza bisogno di quei tutti questi fattori tutte queste cose strane di competitivo si gioca tranquilli quarto fattore formare un gruppo di amici fidati quindi si ritorna al discorso che ha introdotto james precedentemente cioè persone di un certo livello caratteriale c'è no il primo babbone che capita che dopo due giorni ti manderà fanculo ma una persona che rimarrà con te perché ti ci perché si trova bene cioè perché hai i tuoi stessi i tuoi stessi caratteri che ne so se la pensa come delle persone che sono sincera sincera soprattutto sincera sì che ti accetta come sei no che una persona dice sì io sto con te perché sei forte e poi dopo due giorni ti lascia perché non gli frega un cazzo non persone così comunque diciamo è sempre legato al discorso ha introdotto james prima beh quindi tu è sempre siamo sempre lì discorso è sempre quello perché ho introdotto questo quarto fattore cioè formare questo gruppo di amici fidati perché saranno proprio quelle persone che andranno a formare l'elite del team cioè quelli che aiuteranno il capo clan a prendere decisioni quella che la aiuteranno nelle varie mansioni del team quindi insomma il team uno dice a chi c'è bisogno che manzioni ci sono nel team è un team uno gioca e basta no e anche qua bisognerà fare un altro video per specificare meglio come ho detto precedentemente tronde non si può non si può dire tutto e non si può fare tutto in un video che forse durerà anche a tantino non lo so dipende da quantità gli farò quinto fattore conversione dal gruppo for fun a team competitivo quindi c'è proprio questa trasformazione un giorno il capo team o il capo gruppo dirà bene ragazzi da oggi in poi siamo competitivi da un giorno all'altro funziona più o meno così tutto sommato prima bisognerà trovare un compromesso vabbè che c'entra però dal giorno all'altro c'è questo passaggio passiamo ora al secondo punto cioè la creazione del team fino ad ora abbiamo parlato di una parte introduttiva da ora in poi sarà dedicato diciamo gran parte del video a questa parte molto corposa iniziamo subito il primo fattore stabilire una gerarchia amministrativa barra gestionale con le relative responsabilità cosa significa in sostanza bisogna stabilire chi è il capo clan chi sono i consiglieri chi sono i delegati chi sono gli autori e infine chi sono i membri diamo un attimino alcune piccole definizioni di compiti ok di ogni di ogni persona ok il capo clan ad esempio cosa deve fare cosa non deve fare cosa non deve fare un piccolo sguardo ma veramente veloce di pochi che secondi allora capolanno ovviamente ha poteri decisionali crede sia anche a maggiori responsabilità deve delegare i compiti questo voglio aprire una piccola parentesi perché esempio in un team numeroso esempio di 100 membri 200 membri come fa una singola persona a gestire 100 o 200 o più membri cioè diventa una cosa insostenibile cioè il clan crolla implode su se stesso perché diventerà una situazione ingestibile ci saranno litigi continui ci saranno problemi continui quello litiga con quell'altro poi nasce il problema con un altro team cioè vari problemi che diventano insostenibili per una sola persona quindi è giusto il dovere delegare alcuni compiti ad altre persone ovviamente ovviamente quelle persone che si stava dicendo prima gli amici fidati quelle persone serie di cui di cui ti puoi fidare ok dai a loro dei compiti di varia importanza da una stronzata a veramente una cosa di vita o di morte dipende un po come la persona insomma diciamo è un aspetto abbastanza soggettivo questo però delegare compiti è essenziale infine ed è anch'esso una cosa molto importante fornire comunicazioni al tutto il team cioè dai più bassi ai più alti esempio semplice di pochi secondi martedì sera ore 21 clan war contro questo clan contro questo team questa è una comunicazione al team perché stai dicendo che martedì alle ore 9 ci sarà un certo evento di tale importanza perché come una clan war è veramente importante quindi ci deve essere la prima squadra se no ci deve essere il giocatore di scorta di riserva ma deve essere una cosa molto organizzata perché non è che uno fa la cv dice si si e poi non c'è nessuno alla fine no deve essere una cosa organizzata i membri si devono organizzare cioè quindi deve essere ben strutturato passiamo ora ai consiglieri i consiglieri hanno il compito ovviamente di delegare anche loro i compiti ok mentre essendo a stretto contatto con il capo team anche loro possano dare qualche consiglio qualche parola a un membro a un attuatore insomma possono fare uno scambio di parole uno scambio di informazioni controllare e o visionare le attività quindi hanno un compito anche di controllo che essendo di più possono visionare meglio il clan in tutti i vari aspetti aggiornare il capo clan sulle relative attività sui vari problemi stanno svolgendo quindi ci deve essere questo scambio di informazioni continuo tra capo clan e consiglieri e delegati infine aiuto sulle decisioni del capo clan bene quindi decisioni prendali insieme i delegati possono essere diciamo la stessa persona dei consiglieri cioè il consigliere può fare anche il delegato dipende un po' dalla grandezza del team ok quindi se un team è ristretto due persone fanno consiglieri delegati fanno la stessa cosa le stesse mansioni gli stessi scopi proprio perché è un problema di numero ok di quantità di persone un team invece di 100 o 200 persone e c'è bisogno di differenziare perché se no non si va a giro cioè non è che tre consiglieri possano gestire un team da 100 persone è impossibile i delegati hanno delle mansioni molto semplici più che altro un passaparola comunque ve le spiego sono reclutamenti ricerca membri e altri svariati compiti ok quindi l'importanza ovviamente è minore però la mansione più importante è il reclutamento parliamo degli autotori gli autotori devono attuare le decisioni del capo team infine ci sono i membri che devono osservare i regolamenti quindi si devono attenere ai regolamenti imposti dal capo clan e alle decisioni secondo fattore stabilire un solito regolamento come c'è la costituzione italiana in un clan ci deve essere un regolamento ok dal quale prendere esempio dal quale prendere riferimento ci sono vari punti ok varie didascalie su come strutturare strutturare questo regolamento in questo video non andremo di certo a parlarne perchè se no verrebbe una cosa veramente esagerata daremo solamente dei piccoli step delle piccole dei piccoli aiuti diciamo introduttivi su come orientarsi più che altro partiamo subito velocemente ve elenco regole di disciplina con relative espulsioni temporanee o permanenti che sarebbero i ban insomma quello è tutto in base alle decisioni del clan orari preallenamenti disponibilità a clan war acquisto server poteri decisionali metto tra parentesi no approfittatori ok qua james potrebbe dare una piccola nota ma veramente piccola bene per spiegare meglio questi approfittatori una piccola parentesi molto veloce questi approfittatori che veramente sono rognosi ecco noi soprattutto abbiamo avuto esperienze con queste persone quindi vi stiamo consigliando bene su questo punto cioè veloce ma bene perché sono persone veramente da togliere subito dunque va james ti lascio la parola grazie ragazzi l'importante è come detto se di non circondarsi di persone che giocano con voi soltanto perché ne possano diciamo trarre beneficio ecco dovete trovare delle persone come abbiamo detto prima nella parte presente sincere e oneste in modo da accettarli subito in modo da essere accettati ma anche ragazzi a valutare perché questo viene col tempo come reagisce quella persona alle sconfitte e alle vittorie del team quindi ragazzi occhio valutate le reazioni della gente quindi va bene capire se avete di fronte una persona sincera e ci sta e vi accettate però vedete anche le reazioni a lungo termine così poi potete anche comprovare se sia veramente onesta come pensavate che fosse ok posso continuare terzo punto creazione della squadra titolare cioè la squadra competitiva la quale dovrà affrontare i vari tornei le varie clan war a livello ovviamente alto ok quindi cinque persone quattro persone quelle che sono veramente forti i principali del team le persone più forte che ripeto formeranno la squadra titolare tutelando ovviamente anche le minoranze anche quelli più deboli qua james può dare anche una piccola nota come prima veramente piccola esatto un'altra piccolissima parentesi ragazzi è importante mantenere un livello omogeneo nel team è ovvio che ci sarà sempre la squadra d'elite potente che gioca ci sta è normale però quantomeno bisogna dedicarsi e questo è compito anche di quelli più bravi che hanno più tempo dedicarsi a un'opera diciamo di apprendimento e diciamo di di responsabilità perché la seconda la terza e la quarta squadra anche se non possono competere a livello della prima devono ricevere lo stesso trattamento quindi gli stessi allenamenti le stesse tattiche gli stessi modi di giocare devono essere ripetuti anche dalle altre squadre in modo da avere una linea in guida omogenea se no si creano differenze brutte differenze che poi portano alla dissociazione portano all'abbandono portano anche all'angoscia di non saper giocare portano anche a noi è capitato all'odio perché alcuni pensavano che noi volessimo fare gente che se n'è andata che spero che ascolterà questo video per capire veramente le nostre intenzioni quali fossero che non erano quelle che pensavano loro pensavano che noi volessimo fare le nostre tattiche in modo da essere noi più forti e gli altri affancuro no dovete cercare ragazzi tutti quanti di creare una linea omogenea stessi allenamenti non dico stessi orari quelli poi sono flessibili però chi di dovere gli attuatori soprattutto il capo clan e soprattutto anche quelli forti della prima squadra devono dedicarsi a impartire insegnare anche le altre squadre tutti gli insegnamenti in modo da avere una linea omogenea stesso apprendimento se no differenze non fanno bene a nessuno chiusa parentesi ok posso continuare con ad andare avanti insomma con i vari punti quarto punto stabilire nome clan tag clan e l'emblema insomma uno dirà ma a questo punto ma perchè l'hai lo hai inserito era banale però non è tanto banale non è tanto banale perchè come è successo a noi potrebbe succedere anche a voi del tipo uno non sa bene uno mette un fa un clan mette una tag soprattutto succede con le tag uno non sa che esista quel team con la tag in quella maniera no magari fa non so scrive un nome che potrebbe essere totalmente diverso però la tag potrebbe essere simile o quasi coincidente con la tag di un altro team e quindi può sorgere diciamo delle come si dice delle discrepanze delle litigie ma tema copiato non so se avete capito se avete inquadrato bene il discorso forse ve lo faccio un pochino più veloce ma anche semplice un esempio veloce tanto per farvi capire meglio questa parte io creo un team che ne so di nome fox tag f o x potrebbe essere dopo un tot di tempo mettiamo a caso dopo un mese che gioco incontro in partita un altro player che non fa parte del mio ovviamente con la stessa tag e questo non va bene come potete capire non va bene perchè non ci possono essere due fox e adesso uno solo ok mica perchè quello vi copia o altre cose perchè succede che se entrati in qualche gruppo competitivo esempio che ne so gruppi battlefield competitive discord lì di là potrebbe essere che vi scambiano per quel team invece no voi siete un altro team a parte quinto punto tra parentesi volontario non è ovviamente un punto di vitale importanza ma l'ho voluto inserire perchè diciamo nella mia esperienza è stato veramente d'aiuto quindi vi consiglio anche a voi però ovviamente non è che se uno non segue il quinto punto non crea il team cioè che c'entra lo crea lo stesso creazione di un canale youtube pagina facebook twitter altri social quindi instagram che ne so insomma vari social varie cose per farsi pubblicità magari su youtube puoi inserire le clip dei membri puoi inserire un monte che descrive il clan può fare dei video tutorial so può far vedere guardate mondo io esisto io ho un team su battle per esempio su battle fl5 di nome fox io ho un canale youtube di nome team fox battle fl5 se volete sono italiano entrate si gioca assieme potete forse entrare anche nel team se avete delle capacità che questo potrebbe essere un'idea per farsi pubblicità sesto punto molto veloce unirsi a gruppi competitivi discord competitive battlefield italian competitive group che ne so insomma cib icc icla tanto per organizzare tornei per organizzare clan war per organizzare reclutamenti allenamenti insomma è importante anche questo qua settimo punto pubblicizzare il team quindi è legato un po' al quinto punto con youtube pagina facebook insomma per dire io sono qua io esisto il mio team è fox è primo noi ci siamo il team recluta potete entrare quanto per fare un esempio veloce ottavo punto mantenimento del clan e questo qua ragazzi è veramente una parte ancora più corposa ma molto più corposa ve lo dico io bisognerebbe fare un altro video apposito ma un video che dura parecchio sul mantenimento del clan perché non è facile vi giuro non è facile anche se uno ha tutti i vice i rappresentanti l'altro titolare c'è varie persone è difficile lo stesso è difficile lo stesso ve lo dico io quindi al massimo vi posso dire qualche step qualche cosa buttata lì in qua e là tanto per farvi un po' orientare esempio risoluzione di vari problemi potrebbe essere ci sono due membri che litigano e possono compromettere la stabilità del team perché una fazione di un team è successo ma è successo di una fazione del team si schiera con membro A l'altra metà si schiera con membro B è successo quindi si crea una faglia cioè il team viene spaccato a metà e questi due blocchi danno ragione si contrappongono e a quel punto lì il team è finito a quel punto lì cosa succederà che una parte restara con te un'altra parte uscirà e creerà un altro clan ancora cioè tutto così quindi attenzione se c'è un problema risolverlo immediatamente si chiappano i due individui si mettano a confronto in un gruppo gli si fanno parlare si fanno scannare finita lì stop al massimo si buttano fra tutte e due ecco questo è il mio consiglio al video comunque non voglio dare troppe idee strane un altro esempio veloce sempre nel mantenimento del clan potrebbe essere dei reclutamenti e delle espulsioni quindi se c'è quel membro o quei membri che danno fastidio lì si buttano fuori però a sua volta perdiamo uno o più membri ok quindi togliamo quelli lì che danno noia quindi a sua volta si perde si perde dei membri validi no e dobbiamo allora reintegrare i posti vuoti i posti mancanti con dei reclutamenti ok quindi si ritorna al discorso di prima dei reclutamenti trovare le gente in gamba è tutto è tutto un ciclo no tutto un ciclo voglio aprire una piccola parentesi ricordatevi i membri come entrano e come usciranno questo ve lo do per esperienza come entrano e come usciranno e a sua volta dovete trovare già il membro di scorta il membro che potrebbe prendere il suo posto qualora accadesse ultimo punto e lo vorrei far concludere a James questo ultimo punto conquistare la stima degli altri clan ok James se ti lascio insomma se vuoi parlare un po' di questo ultimo punto il nono punto del nono punto e poi se finisce il video si saluta tutti ok ma James ti lascio la parola benissimo grazie su quella parola dunque ragazzi abbiamo parlato di come in linea di massima si crea un team come si definiscono i ruoli come gestirlo poi magari faremo un altro video però come diciamo rendere tutti sul stesso piano come capire chi integrare nel team bene o male vedere magari come reagisce alle sconfitte e alle vittorie per capire se ci tenga o meno e poi ragazzi viene la parte più cruciale in cui il team bello e formato dovrà confrontarsi e magari competere con gli altri team è importante una cosa una cosa che poi sbagliano tutti anche noi l'abbiamo fatta in passato un errore grave ecco quello di non saper fare una distinzione tra il il gioco e invece lo scherzo ragazzi in un mondo fittizio come quello di xbox live che poi è cambiato è molto diventato molto più molto più merdoso rispetto magari alla 360 e altri giochi più seri oggi se fai un piccolo scherzetto può essere cioè lasci spazio a un mega fraintendimento che poi porta discussioni poi tra l'altro le persone che fanno scherzi non li sanno nemmeno fare quindi siamo messi bene dunque ragazzi se create un team e volete competere in poche parole scordatevi messaggini di scherzi il flame che poi lo fanno sbagliano tutti abbiamo sbagliato anche noi come sbagliano altri vabbè poi gli altri sbagliano perché danno attenzioni e riconoscono il flame degli altri che poi forse è peggio che fare flame ma comunque sono valutazioni di altri ma il punto centrale è questo ragazzi al giorno d'oggi ragazzi in un mondo così fittizio molto strano un po' deviato ragazzi giocate e basta meritatevi il riconoscimento degli altri perché il mondo è così il mondo del live funziona il suo riconoscimento tu sei perché gli altri ti riconoscono come tale ed è bello è positivo quando all'interno di una community le persone gli altri team ti riconoscono in modo molto positivo ti rispettano magari vogliono imparare da te e si confrontano quindi ragazzi evitate il flame i messaggini che poi anche se sono scherzosi però dall'altra parte si fraintendono si porta si porta avanti la questione si crea odio poi si aggiungono altre persone insomma una reazione a catena una fissione nucleare mettiamola così diventa qualcosa di incontrollabile che poi combina combina certi guai quindi una volta che vi interfacciate a un mondo competitivo diciamo dimenticatevi i messaggi e concentratevi sul ovviamente se siete persone serie se siete persone che si accettano l'una con l'altra allora anche gli altri vi accetteranno dovete farvi accettare e il modo per farvi accettare è avere dei comportamenti ragazzi dignitosi dei comportamenti umili senza fare i fighi di sta minchia senza fare minchiate ecco concentratevi a giocare ad allenarvi giocare seriamente poi ci sarà sempre il rosicone che è nato ieri che ti dirà però come fai a sparare così lascia testare sono dei cazzaroni di 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 sta minchia concentrativi sulle persone serie che vi riconosceranno come persone altrettanto serie dunque questo è fondamentale una volta che create il team dovete anche prefissarvi lo scopo di farvi accettare perché è una comunità se vi chiudete tra voi se vi chiudete nelle vostre mura nella vostra campana di vetro nessuno vi riconoscerà nessuno vorrà giocare con voi nessuno vi conoscerà neanche quindi bisogna avere un po' di coraggio anche di mostrarsi al mondo che è un mondo comunque positivo ci sono persone positive ci sono anche molti molti personaggi ma comunque le persone a posto normali ci sono ecco troverete un sacco di test di cassa ragazzi poi voi che siete nuovi vi siete persi BF1 vi siete persi BF4 vi siete persi tutta la next gen e i pronostici non è che siano positivi quindi più si va avanti col tempo più peggiora la situazione secondo me quindi comunque non vi preoccupate le persone serie ci saranno sempre e puntate a quelle puntate a farvi riconoscere da chi valuta e da chi rispetta i vostri lati positivi ecco non rispondete al flame fottetemene giocate giocate in modo serio sano senza esasperare il tutto perché è un gioco giocate in modo sano e tranquillo e vedrete che le persone col tempo vi riconosceranno come il nome del team che avete scelto perché dal momento in cui che avete creato il team interfacciate con gli altri e gli altri vi riconosceranno in modo positivo avete fatto bingo avete creato il vostro team e potete veramente stabilire le basi per un futuro un futuro che poi vi porterà a giocare in LAN un futuro che poi vi porterà ad avere a strapparvi delle grosse soddisfazioni quindi forza ragazzi BF5 alle porte uscirà un video prossimamente il quale tratterà l'argomento più gestionale rivolto diciamo a un pubblico molto esordiente questo è un video molto più generale ecco solamente qualche piccolo consiglio poi uscirà un video molto più dettagliato che sono consigli proprio di chi non ha mai giocato cioè che ha preso l'Xbox i casa box l'attaccata e ha cominciato a giocare ecco dei consigli più tecnici come valutare un player come magari anche gestire alcune situazioni come gestire le mappe le tattiche come gestire tutto il playbook diciamo della squadra più cose tecniche questo video è rivolto a gente diciamo che bene o male questo mondo ci è già immerso da un anno due anni che non ha mai fatto un team il prossimo sarà proprio di gente nuova ecco quindi boom ragazzi questo video penso che sia arrivato alla conclusione ago no abbiamo fatto un bel lavoro direi insomma bene ragazzi siamo arrivati alla conclusione del video spero che sia d'aiuto lasciate un like se siete d'accordo o un dislike se ovviamente non recepite i nostri messaggi commentate se avete qualche perplessità o qualche disaccordo ovviamente tutto nel rispetto di chi ci lavora ecco di chi sta ore e ore per fare un qualcosa di buono per la community e poi viene deriso da quattro babboni che poverini non sono nemmeno loro cosa significa creare un clan creare un team che poverini loro fino a ieri l'altro erano a giocare con la mira assistita su conquista con i cecchini campionati sopra una montagna ora vogliono venire fuori con i team e no scusare quindi un po' di umiltà e rispetto dunque vi saluto james mi ha chiesto 20 secondi proprio alla fine alla fine per comunicare qualcosa quindi volentieri ora parlerà a lui proprio una nota finale e ci si ci si vedrà con un ultimo video su bf1 un gameplay veloce veloce e poi un video su battef5 e si inizierà video sulla sensibilità un video sulle mappe sui flank sui competitivo sulle sensibilità cioè su tutto quindi dai 20 inizierà tutto un altro tipo di di canale non sarà in centrale su bf1 ma bensì su bf5 ok james ti lascio 20 secondi grazie mille ragazzi piccolissima cosa se volete commentare fatelo se volete mettere commenti negativi non verranno neanche presi in considerazione ma se volete commentare fatelo più che altro per arricchire se avete qualcosa da dire in più perché questo video deve essere condiviso a più persone e deve essere deve essere capito questo è un video che dobbiamo fare noi tutti insieme della community chi è interessato a aiutare quelli nuovi in modo tale che diventiamo una community riconosciuta anche a livello internazionale perché l'Italia non è ben vista dobbiamo crescere tutti su questi diciamo pilastri di base così facciamo tanti team forti preparati che coprono anche l'uno con l'altro che si rispettano l'uno con l'altro valutando anche gli errori che sono stati fatti per carità di Dio ma con BF5 bisogna partire per bene bisogna partire positivamente ci si vede con i prossimi contenuti ragazzi ciao ciao ciao